Un bel video filler. Mi sembra giusto dare aggiornamenti e informazioni riguardo al futuro di questo canale. So benissimo che la mia costanza è sempre stata molto altalenante in questi tempi. Non c'è bisogno di ricordarmelo, grazie. Come avrete notato dagli ultimi video, mi trovo in una location, in una casa, differente dalle clip storiche. Perché da quattro anni vivo per gli affari miei. E tutto ciò che è presente in questo appartamento è l'espansione della mia vecchia cameretta. E sto cercando di fare il possibile per tramutarla in una vera e propria casa Hobbit, come si deve. E la stanza in cui mi trovo ora è sempre stata considerata la stanza in più. Per le mie esigenze. Ci ho collocato il computer, un armadio e tutto il resto delle cianfrusaglie, la più totale e disperata rinfusa. Comunque vorrei tornare qui su YouTube come si deve. E questa stanza che sta prendendo vita piano piano, Ikea, muoviti a spedirmi i mobili che mi servono. Diventerà almeno questo angolino alle mie spalle il mio studio underhilliano. Underhilliano. Postazione video, la chiamano. Perciò avere un bell'ambiente che ti circonda magari può stimolare la voglia di fare contenuti sui social. Volevo principalmente aggiornarvi su un tema in particolare, ovvero gli argomenti trattati su questo canale. E quello che sto per dirvi è praticamente il frutto di quattro anni di ricerca a livello personale, ma soprattutto organizzativo nell'ambito YouTube. Quindi, sì, organizzazione, ma soprattutto gestione dei tempi. Per quanto mi sforzi a creare contenuti dove, per esempio, spiego l'origine di un personaggio, di certe curiosità, quindi cose incentrate su tematiche particolari, sento che questa cosa mi limita un po'. Con questo non intendo dire che quello che ho fatto e quello che faccio non mi piace. Mi piacerebbe però essere più emotivo, trasmettere più emozioni e pathos. Quindi direi che d'ora in poi vedrete argomenti e tematiche differenti dal solito, dal mio solito. Argomenti che hanno sempre lasciato un'impronta particolare e speciale su di me, con la speranza di trasmettervi qualcosa, emozioni e, perché no, anche qualche messaggio. Ciò include anche dare più spazio ai vlog e ad altri contenuti leggeri. Infatti nella lista dei video prossimi avevo già in mente, per esempio, di parlare, raccontarvi la storia dei miei tatuaggi. Che ne è un bel po' adesso. Insomma, voglio ampliare gli orizzonti di questo canale e trasmettervi le stesse atmosfere che c'erano negli altri video, sempre se ne trasmettevano. O addirittura, vorrei azzardare a dire, intensificarle o crearne di nuove. So di aver fatto dichiarazioni simili in passato parecchie volte. Ma ora, ripeto, sono convinto di aver trovato un certo equilibrio. E per quanto possa risultare facile o difficile, non lo so ancora, non mollerò chiaramente le vecchie tematiche. Tra l'altro sono le tematiche che hanno fatto crescere questo canale, quindi assolutamente no. E la mia speranza più grande è quella di realizzare almeno due video minimo al mese. Minimo! Ne vedremo delle belle. A presto.